Ciao ragazzi, ieri sono andato in un'azienda vicino a casa mia e ho testato dei nuovi forni, dei forni rivoluzionari sia per uso domestico che professionale. Sono forni a pellet, con combustione a pellet non necessitano di cavi, questa è la prima cosa, è fantastica, infatti basta un semplicissimo powerbank per farli funzionare vanno come vi ho detto a pellet e la combustione avviene tramite la pirolisi per chi vuole nei commenti basta che mi chiede e gli spiego che cos'è la pirolisi con la cottura che ho potuto testare tramite le pizze che ho fatto ho notato che è molto uniforme e dolce si può regolare la temperatura tramite un'app e la tiene molto bene quella temperatura è molto preciso il forno, vi ho incuriosito? Fatemi sapere nei commenti, nel frattempo vedetevi del resto del video Ciao!